Sport, musica e spettacolo per la 26esima edizione delle Stelle del Ring. Sarà un evento impertibile, c'è tanta attesa ed emozione per questo evento. Il Gran Galà dedicato agli sport di combattimento è in calendario domenica 26 novembre al Palace Sport Estera Mario D'Agata dove si rinnoverà l'appuntamento con un evento che sta acquisendo una dimensione sempre più internazionale. Gli eventi sportivi sono importanti per la città non solo dal loro punto di vista sportivo ma anche per il richiamo di persone che appunto si portano dietro. Questo è un grande evento con 14 incontri, con la musica, con due cantanti che si uniranno allo spettacolo vero e proprio. Quindi tante persone sono attese anche da fuori Arezzo, da fuori regione che parteciperanno. Non a caso il Comune dà un patrocino e un contributo per la realizzazione di questo evento. Tra l'altro è un evento che poi si inserisce in questo magico momento della città con tutti gli eventi natalizi, quindi un evento sportivo che animerà anche il Parasport Estera. Il programma di combattimento al Via alle 17 vedrà sfidarsi alcuni dei maggiori rappresentanti del panorama del kickboxing e troverà il proprio cuore nell'assegnazione di due titoli europei, un titolo intercontinentale e un titolo italiano. Vorrei ringraziare tutti i ragazzi che saranno presenti allo staff, tutti gli atleti che comunque si hanno avuto interesse perché c'è gente abbastanza importante in questo mondo del nostro sport che vengono a combattere il nostro evento e ci fa molto onore.